Ragazzi, oggi non uscirà più un video, uscirà domani per problemi che oggi sono qui, sto aggiornando Minecraft Xbox One Edition e domani credo che uscirà proprio Minecraft Xbox One Edition. Scrivetemi qui sotto nei commenti, fra Far Cry Preimal, Battlefield 1, Rainbow Six Siege, Roblox e anche Minecraft, oppure Forza Horizon, quello che volete, scrivete qui sotto e ciao, a domani.